Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. È ormai evidente da anni che il rapporto tra il re Carlo e suo figlio Harry sia sempre stato complesso e negli ultimi tempi si sia ulteriormente deteriorato. Il trasferimento di Harry in America e la rinuncia ai doveri reali sono stati aspetti che Carlo ha faticato ad accettare. Oltre a ciò, il colore dei capelli rossi di Harry ha suscitato in Carlo il dubbio, fin dalla sua nascita, che potesse non essere realmente suo figlio. Specialmente considerando le difficoltà che caratterizzavano il matrimonio con Diana in quel periodo. In quegli anni circolavano voci insistenti che Harry potesse essere figlio del maggiore James Hewitt, ex scudiero della corte, con il quale si ipotizzava Diana avesse avuto una relazione. A seguito di tali insinuazioni, Carlo avrebbe richiesto di effettuare un test del DNA per mettere a tacere una volta per tutte le dicerie. Si racconta che Harry sia stato sottoposto a due test, una prova e una controprova. Per confermare senza alcun dubbio la paternità, i risultati hanno definitivamente confermato che Harry è figlio biologico di Carlo, smentendo le teorie complottistiche che lo indicavano come figlio di Hewitt.